oh my god ma sai stai lasciarla qui lasciarla qui no 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 ehi scusi scusi ci provo da sto allo aspetta no 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 aspetta eh dammi cosa dammi cosa no no eh si va bene non mi serve adesso stare qui sopra staccati ma c'è una colla aspetta vieni qui vieni qui piglialo corri oh adesso si che l'ho preso più o meno signora potrebbe dare una mano che sono un po' scarso ma che lo dici c'ho una panza eh aspetta eh se il mio personaggio si decide aspetta eh aspetta me lo alzo di più te te piglialo piglialo lascia quel ok così sono appiccicata lascialo no lo devi portare dentro e se lo lasci forse non ci riesco lascialo ok tu hai il tratto posso guidare adesso? no la prendo sta rampa? no 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 dai dai corri corri si vola si vola piano 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 vai vai a qui è pensavo dove andare oltre infatti non capivo adesso lentamente aspetta che mi fermo Mi sono fermato, ok No, no, lascia, faccio io, faccio io, faccio io Uscirai, uscirai No, aiuto Ok, no Ecco là Mi hanno mangiato Aiuto Ma aspettate, che schifo, hai il culo marrone Ma perché io ho questi pantaloni? Ma perché hai il culo? Non avete visto niente Ma come sono i mutanti? E sono pure sporche Ma mi sa che c'è giusto un po' di roba dentro Aspettate un attimo che risolvo Non ho capito, tu mi equipaggi la roba mentre la vado sbloccando, che era questo? Ok, ho risolto Quasi, sì, ho risolto, ok È pronto Sono due le cose, o c'è rimasto dei bisognini dentro O c'è un culo che fa Questo, questo, facciamo questo Arrivo, sì Questo è l'elicottero, però quello di prima Vabbè, ma non dobbiamo, non dobbiamo andare allo stesso Ok Dove dice? Non lo vedo io Sulla nuvola, è soddivisibile Un bel casino Aspetta, no No, no, no Vedi, vedi che non l'eroe più guidato, non si va da solo Niente Aiuto, aiuto Aspetta che mi incastro Aspetta, aspetta No, 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 no Non ce la faccio Non riesco a passare, aspetta Togliti Niente Al contrario ce l'ho Vente, porto io Abbasso le braccia, abbasso le braccia Va bene un po' Eh, ciao Aiuto Forza, forza Vai, lascialo, lascialo Aspetta che gli do l'ultima giustata Oh, no, no E la panza Colpa della panza Le mani lì Ah, ok Va bene Questa è la posizione che serviva Sì, vediamo Speriamo bene Ah, parecchè Sì Vediamo, eh Non avete idea di quanto è difficile guidare questa cosa? Sì Sta andando leggermente veloce Sì Aspetta, aspetta, aspetta La gente vai in alto Eh ma voglio vedere come atterriamo qua sopra No, 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 no Io sono incastrata aspetta non sono incastrata per niente ma non è vero ma non è vero mancava uno spunto tocca a spiato siamo nate ma dove? perfetto, sono qua ho fatto le spawn e la miseria che è salto ma che è? ma che è? cioè il propulsore ho sbloccato aspetta la scatola la lasciamo qui io mi aggravo qualcosa no tu stai sopra con me tu aggrappati alle eliche sopra c'è qua su questa parte qua ci riesco qua giù di lì insomma e ti pidi pidi non puoi puoi non puoi puoi non puoi puoi non puoi puoi non puoi riuscire a salire di nuovo qui ok ho preso qualcosa vai vai perfetto ci riproviamo non puoi uscire la scatola c'è la mia cincia che bocca e c'è un piedino che fuoriesce un attimo un po' di paura prima siamo andati a cannon ed è finita male non è per niente semplice guidare questa cosa che cosa sono queste cose? ma cos'è? la neve non è per niente non è per niente non è per niente piano 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 bom ed è successo veramente non è per niente ma come mi ci rimetto in questo punto? dovevi frenare col mouse all'indietro non ci spingi non so a salire queste cose molla molla ok ahahah perfetto un attimo faccio un po' di flessione eh scusi aspetta eh ok metti giù le mani metti giù le mani ok mettilo bene se lo casco così ok adesso io non sa via così non casca no no aspettami ma vuoi un'altra parte da qualche cosa? guarda se mi attacco di lato e tu ti sbilanci guarda come faccio i palletti anche io fanno ok fermi girati coraggio ok ci restiamo ma sto di lì ok ok no qua si sbilancia tutto si sbilancia tutto si sbilancia tutto aspetta eh ma qua il punto cambia ogni volta eh un attimo è stato già mi sono volata in cielo voglio ancora andarci vai vai vabbè senza senza compagno ci vado provati ci provo eh aspetta ho paura che casca la scatola aspetta eh piano piano arrivo eh tanto c'ho il piedino lì che sta a fare la pirouette piano 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 per carità troppo passi aspetta 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 l'importante è andare piano piano ti prego ti prego eh nooo 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 non c'è l'elicottero perfetto sei posizionato possiamo andare ciao quando qualcosa si muove rimane lì aspetta adesso reggete a cosa? a me a me attaccati a me no no quello no ma guarda lo fa apposta eh ti ho preso? no aspetta il braccio adesso cosa sta toccando non mi ispira per niente vai vai ti ho preso premiefe però è che non ho solo moon out no no vediamo se ce la facciamo aspetta questa volta c'è il tuo piedino eh 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 il mio spivaletto siamo quasi per arrivare piano 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 non c'è fretta l'elicottero non ti spegne allora mi devo piegare un po' in avanti anche se no non si arriva più eh dai 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 petta ma c'è sei aspetta 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 credo mi bilanci un pochino Non lo so, aspetta. Piano, piano. Pianissimo di ratterrare come un bocciolo. Un bocciolo di rosa, vieni il cattissimo. No, 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 no. Ma che aspetta. Come ho fatto salire qui sopra? Si può fare un'altra cosa? Io adesso sono qui. Oh, è tanto lo scatolo. Tu lo porti. Mentre sei sopra e tieni la levetta in alto, con l'altra mano... Si muove. Si allontana. Ma guarda qualcosa, con l'altra mano la butti. Si, è una parola. Ma dove sono rinato? Scusa, come faccio a fare la missione se non mi fai più rinascere? Prendo in prestito questo elicottero, si può fare? No, ma questa cosa si muove. Eh beh. Io sono... No. Aspetta. Guardate che mi tocca fare. Ma è una cosa nuova questa? Le consegno alla NASA. Ma dove sta il punto dove partiamo noi? Se vabbè... Qua tanto in poi in boiled' opere. Qua tanto in poi. Qua tanto in l叶to cosa per vino? Sgalibati!!! Seve la SAVI torna intitare per… Qua. Qua tanto in quel ora non per suta? Qua t'era un problema! la coda dell'occhio, intravisto... ah va giusto, non può rimanere lì sopra cosa intravisto? no, intravisto un cambio di cosmo, ho pensato adesso che... madonna, fa proprio schifo questa cosa che mi sono portata, ma che possiamo provare a deliviarlo alla casa? no, aspetta, adesso non ci sta a casa, non siamo a casa, oggi stiamo in consegna mamma mia sgoma, guarda la mia sgoma, aspetta, bello quello, vediamo se riesce a venire qui, però un attimo, prima devo fare... si può annullare? ah, lo faccio io, non lo... vai? eh, provare nascere intanto, fai rispondo... fai rispondo hq... ah no, ok, quindi... attiva il legame da te... ok, faccio un barile esplosivo... qui dentro, qui dentro... allora, modo per aprirlo ci sta... si, è una mano bella... devi trovare il tasto giusto... ok... piano piano... no, non serve, devi usare i tasti, i tasti... se usi i tasti si apre... aspetta eh... io lo dovrò lasciare, questa cosa... ok... posso uscire... no, per carità, tu non guidi questo... allora, dov'è che si va? di là... sta da lontano... attenzione... questo è bellissimo... no, parlo sparte, guarda guarda... questo prima non c'era sto barile... prima non ci stava... neanche questo c'era... non c'era nessun barile in questa strada, perchè ci sono andato poco fa... piano... piano piano... guarda come... c'è il barile dietro che va a destra e a sinistra, guarda... io non lo vedo neanche... ok ok... aspetta aspetta... signora... eh, mi sono spaventato il piccione... ok, siamo arrivati... allora io ti abbasso... no, io io io... ok, allora io salgo... allora io adesso schiaccio e faccio cosi... forza, coraggio... spegni, spegni... alza le mani... che è successo? forza, forza... ce la puoi fare, dai... togliete quella davanti qualcosa... vai, 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 via, via, via... mangiate, ok, ci siamo... che schifo... anche questo c'è il mio occhialino, sta signora... allora, come vedete, sta signora c'ha le labbra rosse... con questa roba, no? voi in realtà non lo sapete... però... se guardate attentamente... forza, ma... cosa è? grazie... gentilissimo proprio... almeno il carrello lo possiamo usare... il carrello, sì... è sparito il furgone, stavo dicendo... come vedete, se notate, c'è una leggera assomigliatezza nei labbra... ecco... anche io ho questo... però io l'ho fatto per fare una linguetta, ma voi non lo sapete... ciao! ciao! eh... cosa è sta roba? perchè qua c'è un'ombrella? oh! 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 spero che il trolle si vedrà pronto... io sono tardi... è appena passato, signora! eh... ciao! ciao signora! uè! 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 facciamo questo, facciamo questo! ok... oh che carino posso guidare! no, aspetta... io due non le posso usare... quindi una alla volta... però pigliala... 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 vai! pigliala! perfetto! consigliato! non vedo niente! bravo vizio! io guido! io guido! non vedo niente! tu mi stai spaccando tutti! non vedo niente! ce l'hai? ce l'hai? aspetta... metti qui... pipì! dove devo andare? aspetta... eh... non lo so... eh... ah... mi metto così... piano 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 vai piano vai piano... questo cosa sgomma... piano 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 piano... intanto ci facciamo il viaggetto per la consegna... da quant'è che stiamo registrando? da... quasi 50 minuti... direi che può bastare, no? sì sì, bastare piano 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 piano... dai che siamo arrivati... un po' di carburante in salita... ci non passa inizio... per favore prendi... ah... sì... ma cosa fai? piano 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 piano... ok... spacca tutto... ah... spacco pure io tutto... no no... questo è un mezzo... ok... uno consegnato... io 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 io... che fatica a uscire... di qui di qui... insieme... insieme... opera... sono segnato... hai rischiato di farti mangiare... ma cos'è questi simboli che mi appaiono... accessori... macchine... cose... dove sta? aspetta un attimo... dove è? si... 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 lo sbl cherchiamo... lo sblchiamo... lo sblio così... ah... ma si può scrivere... certo... che si può scrivere... Jetzt può scrivere... ci si la possiamo scrivere... noi ci metiamo... dove ci metiamo, ci metiamo... ci metiamo qui... uno, due tre... Sì. Facciamo sopra la tavola, ma... Io mi metto qui sopra. Ma che stai facendo? Adesso? Io sono sopra il camion. Avvicinati. Ma come faccio? Ma che devo fare? Guarda. Ho dappiccicato. Non ho niente. No, ma non prendi. Ferma, 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 ferma. Ci sono, ci sono. Ferma, ferma. Ferma. Avvicinati, avvicinati. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Questo è il secondo episodio. Non so che cosa vedrete. Questo video lo sto registrando da più di 53 minuti. Mi raccomando. Lasciate un bel mi piace. Fate qualsiasi cosa positiva. Controllate le schede in alto a destra e la schermata finale alla fine. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. 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 Ciao.